In Puglia, soprattutto in Capitanata, i numeri della pandemia sono ancora troppo alti e in controtendenza rispetto al resto del paese. La zona arancione con le dovute restrizioni sembra proprio che non stia funzionando. Ma quanto finirà l'emergenza Covid? Lo abbiamo chiesto al professor Claudio Cricelli, presidente nazionale Federazione Italiana, medici di medicina generale. Finirà quando non ci sarà più il virus in circolazione in maniera significativa, quando ci saranno pochissimi casi che potremo controllare, potremo circoscriverli e questo avverrà soltanto quando avremo una vaccinazione di massa, quando la maggior parte della popolazione sarà stata vaccinata. E i medici di famiglia continuano ad essere presi d'assalto? Certo, i medici sono sovrar carichi. Pensate che dalle 10-12 telefonate, 15 al giorno che c'erano le condizioni normali nello stesso periodo di un anno fa, siamo passati a 100-150 telefonate, più i contatti, più le richieste di visite, più le richieste di vaccinazione. Quindi i medici sono sovraffatti e bisogna ricordarsi che a volte reagiscono chiedendo ai loro pazienti di fare telefonate brevi, di non fare telefonate inutili, di non ripetere le telefonate. Al professor Cricelli abbiamo chiesto anche perché si continua a morire così tanto. Devo dire che i decessi poi dobbiamo abituarci a vederli non come i decessi di quel giorno che noi stiamo osservando, perché in realtà i decessi derivano dalla malattia che si è sviluppata settimane prima, a volte mesi prima. Le persone si ammalano, stanno a casa, poi sono costrette a ricoverarsi in un reparto Covid e poi dal reparto Covid a volte devono andare in terapia intensiva e la maggior parte dei decessi derivano proprio da questo, ma sono successi molte settimane, alcuni mesi prima. Infine, la situazione drammatica è incapitanata. Nella provincia di Foggia in cui c'è stato un aumento quasi inspiegabile dei casi, però vedete Covid ha un andamento strano, non dipende tanto dalla cattiveria del virus o dal sistema sanitario, dipende in buona parte da quanto le persone circolano. Più le persone circolano e più focolai ci sono. I focolai, per esempio, diffondono molto il virus, quindi un grosso focolaio, un RSA diffonde il virus a macchia d'olio e anche delle comunità lo possono diffondere. Per cui questi fenomeni in genere vengono osservati e vengono abitualmente e rapidamente controllati.